Siamo al termine del culto qui nella comunità di Coricolta e abbiamo insieme a noi Maria che ci dirà qualcosa riguardo alla persona a cui affidarsi. Sicuramente in questo mondo e nella società in cui viviamo c'è poco su chi affidarsi e lo vediamo giorno per giorno di tutti questi problemi che ci sono, ci sono problemi di ogni genere e ogni persona viene sempre meno. Ci sono tanti problemi come quelli del lavoro, dell'economia e anche i problemi spirituali, i problemi delle malattie. Ecco, tutto questo non sta proprio distruggendo l'uomo e a volte l'uomo appunto cerca riparo in qualcosa che poi va ancora di più ad aggravarsi e fa delle scelte sbagliate. Ma grazie a Dio per chi veramente comprende la realtà di Dio, che è quello che ha mandato Gesù a morire sulla croce per noi e a salvarci. E chi veramente comprende questo sa a chi affidarsi, perché il Signore veramente non ci fa mancare di nulla. Egli sta con noi ogni giorno e ci porta avanti. Egli è colui di cui tu ti puoi fidare veramente tranquillamente, perché Egli solo è fedele. E io questo l'ho sperimentato nella mia vita, per questo lo posso dire. Perché a volte uno può andare vicino ad un'altra persona, però non trovi quello che veramente trovi nel Signore. E la sicurezza che il Signore ti dà, veramente che ti guida. E questo, quello che noi abbiamo, noi che abbiamo accettato Gesù. Abbiamo Gesù che è la nostra forza, Egli è come un Padre per noi, che ci dà la mano e ci guida. E noi con questa forza andiamo avanti, perché sappiamo in chi ci siamo affidati. Grazie.